Torna al Rossini la scuola va a teatro, cresce di anno in anno, dal 2008 sono aumentate le scuole e gli studenti? Dal 2008 quando siamo partiti avevamo 430 ragazzi, l'anno scorso abbiamo chiuso con 5.000 studenti, quindi una crescita esponenziale grandissima e quest'anno siamo in crescita, ancora non siamo arrivati a quei numeri ma ci arriveremo sicuramente. Quello che posso dire di quest'anno è che abbiamo anche per quest'anno 50 scuole che partecipano e la caratteristica è che queste scuole vengono un po' da tutto il centro Italia, quindi andiamo ad Arezzo, andiamo a Macerata, Ancona, Forlì e tutta la provincia di Pesaro, quindi coinvolgono le scuole di ogni ordine e grado e quindi per noi è importante che ogni anno abbiamo la conferma della qualità di questo progetto che è veramente un progetto innovativo e a noi comunque mi fa piacere poter essere promotori di questa attività. Si parte il 2 febbraio, quante saranno le rappresentazioni? In totale le rappresentazioni saranno 8 per 4 date, quindi partiremo il 2 febbraio, poi avremo il 16 febbraio e una data marzo e una data d'aprile, tutte e due mattine, quindi 9 e mezza e 11. Quali sono le rappresentazioni che avete scelto per questa stagione? In questa stagione ci saranno titoli molto diversi fra loro perché tocchiamo dei generi molto diversi, si comincia con l'operetta addirittura, la Vedova Lega di Franz Lehar, quindi un titolo emblematico per quel genere, sarà una specie di lezione e concerto, non verrà eseguita tutto ovviamente perché tutto deve essere concentrato in poco meno di un'ora, quindi penso sarà molto stimolante la mattinata. Dopodiché torneremo ai classici eterni, Mozart e Rossini, avremo un concerto per pianoforte orchestra di Mozart, credo il 488, suonato dalla nipote di Alberto Zetta, Valentina Kaufmann, quindi è un omaggio che facciamo ad Alberto Zetta perché poi la sera verrà replicato questo concerto. E in più ci sarà anche il grandissimo Nicola Laimo, il baritono siciliano, ma pesarese ormai a tutti gli effetti, che è anche nostro amico da tanti anni, con il quale abbiamo collaborato tantissimo, e si esibirà in repertorio rossignano, soprattutto omaggiando i grandi ruoli buffi, che sono il suo pane praticamente. Dopodiché ci sarà l'ultimo appuntamento, però sarà in due date, è l'histoire du soldat o la storia del soldato di Igor Stravinsky, e verrà proposto in un modo molto molto particolare, credo che nessuno lo faccia così almeno in Italia, avremo appunto l'ensemble di sette strumenti, come previsto da Stravinsky, però ci sarà solo il direttore che interpreterà anche tutti i ruoli del racconto di Rameau, questa storia molto molto triste alla fine, pessimista, perché purtroppo si tratta di una storia ormai molto molto nota, un po' faustiana, la lotta fra il bene e il male. Ma com'è nato questo progetto? Sì, il progetto è nato nel 2008 per volontà appunto dell'Orchestra Sinfonica Rossini, in modo particolare di Saul Salucci, che ne è il presidente e mia. Volevamo mettere in pratica quella che è stata sempre una delle nostre mission, se la vogliamo definire così, ovvero quella di divulgare la musica classica, ma non solo, perché noi eseguiamo tutti i generi di musica al nuovo pubblico, e il nuovo pubblico per eccellenza sono gli studenti.